Vi sareste meritate un biopic su Zenone dei due ore e mezza, ma sono buono, sono misericordioso e quindi vi perdono. Ah, li perdonamo. Ebbè, almeno andiamo un po' avanti con la rubrica. Certo che dalla Bibbia non c'è proprio capito niente, eh. Oggi per la serie gli apocrifi sono inattendibili, ma dobbiamo crederci lo stesso, altrimenti non sappiamo dove far poggiare certe stronzate. Vi parlerò delle vicende raccontate negli apocrifi dell'apostolo Pietro. Ma non staremo qui a dilungarci sulla vita di Pietro e sulla sua storicità. O sul presunto primato di Pietro, avete presente, no? No, non è il primato di Pietro che schiaccia 20 noci di cocco in meno di 30 secondi utilizzando soltanto i capezzoli. È un altro tipo di primato. E cioè l'incarico che Gesù dà a Simone, soprannominato Pietro, per essere la pietra sulla quale Gesù fonderà la sua chiesa. Gioco di parole che suona benissimo in greco nella lingua in cui sono stati scritti i Vangeli. Ma in aramaico la lingua in cui parlava Gesù? Senza contare che negli atti, dopo Gesù, a guidare gli apostoli è Giacomo Giusto, il fratello di Gesù. Ma di come la figura di Pietro sia arrivata fino ad oggi dopo un'infinità di ageografie e apologetica, tra l'altro utilissime per colmare quella voragine lasciata dalla quasi totale assenza di fonte storiche sul personaggio, ne parleremo nella rubrica del Santo del Giorno. Cacchio, potevo fare una doppia puntata con un video Piavo 2 playlist. Vabbè ormai è tardi, ma non è troppo tardi per iscriversi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Non è nemmeno troppo tardi per abbonarsi al canale a solo 1,99€ al mese e vedere in anteprima i video della domenica. Tra l'altro è incredibile quanto si sta abbassando la percentuale dei non iscritti che guarda i miei video dopo che ve l'ho fatto notare. Allora sto tipo di messaggi funziona veramente. Pietro da Evangeli sappiamo essere un pescatore e come tutti i pescatori della sua epoca sapeva leggere e scrivere, infatti produsse la lettera di Pietro presente nel Nuovo Testamento. Faride, vè? Infatti Pietro, come il 97% della gente della sua epoca, era un analfabeta e come gli stessi atti degli apostoli confermano. Infatti la lettera presente nel Nuovo Testamento è un falso. Oh scusate, devo aver urtato la sensibilità religiosa di quelli che vogliono credere che sia tutto vero. No, non è falsa la lettera, è pseudoepigrafa. Cioè scritta da qualcuno che si firma con il nome di qualcun altro. Bacino sulla bua. Dovete sapere che Pietro venne a Roma per scontrarsi con un altro incredibile supereroe, ovvero Simon Mago. Episodio che è già raccontato negli Atti degli Apostoli, solo che non si svolge a Roma ed è meno accattivante. Questo Simon Mago, pensate, era conosciutissimo per compiere i prodigi delle vere e proprie magie nella terra della Samaria, dove predicavano anche gli apostoli. Ma secondo i cristiani ingannava il popolo, o meglio, era Satana a guidare Simon Mago. Negli Atti leggiamo che Simon Mago, vedendo che anche gli apostoli compivano prodigi e facevano guarigioni, va da Pietro a chiedergli se gli può vendere il trucco. Pietro, arrabbiatissimo, lo caccia via, maledicendolo. E da qui che nasce il termine simonia, cioè la vendita delle cose sacre. Peccato gravissimo su cui la Chiesa ovviamente fonderà il suo impero. Però appunto diciamo che per esigenze di trama serviva un Pietro che si trasferisse a Roma, e quindi ecco a voi gli Atti di Pietro. Apocrifo inattendibile, a cui nessuno crede, ma che è la base per rendere storico il trasferimento di Pietro a Roma e soprattutto la sua morte come martire. Infatti è la prima testimonianza del martirio di Pietro e della famosa crocifissione carpiata. Pietro infatti chiede di essere crocifisso a testa in giù. Il testo spiega chiaramente i motivi che riguardano il ribaltamento dei punti di vista. Ma secondo gli apologietti questa spiegazione faceva poco presa sul pubblico. Infatti anni più tardi la cambiarono nel fatto che Pietro chiese di essere crocifisso a testa in giù perché non si sentiva degno di morire come Cristo. Corcazzo, anzi stava a fare lo sborone, impartiva lezioni agli altri mentre moriva. Pensate ai satanisti piuttosto, quelli capovargo negro ci penevoca a satana, gli eciccia fuori San Pietro, poracci. La questione interessante tra San Pietro e Simon Mago come gli stessi Atti degli Apostoli mettono in luce, canonici quindi attendibili no, è che i prodigi, i miracoli e mica li faceva solo Gesù. Simon Mago era altrettanto bravo e la gente ci credeva. Molti venivano convertiti e gli Apostoli rosicavano. Vera da tempo in città, un tale di nome Simone, dedito alla magia, il quale mandava invisibilio la popolazione di Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui aderivano tutti, piccoli e grandi, esclamando, questa è la potenza di Dio, quella che è chiamata grande. Così recitano gli Atti, quindi le cose sono due. O era molto facile ingannare la gente di quell'epoca, ma questo non depone certo a favore della credibilità dei superpoteri di Gesù, oppure sti poteri non erano un'esclusiva di Dio, infatti i cristiani più tardi elaborarono la teoria che fu Satana a fare l'upgrade a Simon Mago. Negli Atti di Pietro leggiamo di una terribile battaglia all'ultimo miracolo. L'Apostolo giunge a Roma per il secondo round e per sbugiardare Simone, ma questo non si faceva trovare. Allora il nostro eroe, ovviamente circondato da un numero incredibile di fan, dice Adesso state per assistere ad un incredibile miracolo. Lo annuncia proprio, c'è scritto così, manca la musica del circo sotto. Poi vide un grosso cane cattivo legato ad una catena e lo libera. Il cane per un attimo rimane attonito e poi fa Dimmi cosa devo fare, osservo dell'inenarrabile Dio vivo. Esatto, il cane parla. Vabbè, so favole, so scritte così, il cane parla, il maiale resuscita e il piccione sborra. Pietro ordina al cane di andare a stanare Simon Mago e a dirgli che lui era giunto in città per sfidarlo a duello magico. Il cane finalmente trova Simone e si alza su due zampe per riferirgli parola per parola quello che Pietro gli aveva detto. Ma Simone, dopo aver fatto parlare il cane, gli dice semplicemente Di a Pietro che non sono in casa. Il cane giustamente sbrocca malissimo e maledice Simone. Poi torna da Pietro a riferire quanto gli era stato detto. Dopo aver terminato il suo compito, muore. Sicuramente sarà finito in paradiso. Sì, lo so, è come nei film dove l'unica parte straziante è la morte del povero cane innocente e tutto il resto è una trama di merda. Allora la folla chiede altri miracoli a San Pietro perché dice Noi abbiamo seguito Simon Mago perché ha fatto meraviglie davanti a noi. E te, cane che parla, un po' pochino. Allora Pietro vede che lì vicino a lui c'era appesa una ringa. La prende, la getta in una bacinella e quella subito inizia a nuotare e riprende vita. Grida di giubilo e di festa tra la folla che subito torna a credere all'apostolo di Gesù. Cioè, quelli avevano appena visto un cane arsasse su due zampe e parlare e l'unica reazione che ci hanno avuto è stata Mmm, banalino. Poi ha la ringa che nuota a boato. Cioè, roba che se gli facevi il trucchetto cordito ti veneravano come nuova divinità. Ma il punto è proprio questo. Quanto era credulona la gente dell'epoca. Quanto poteva essere difficile fargli credere che qualcuno era risorto. E questa risposta ce la dà nell'episodio in cui la folla si raduna per lo scontro finale. Dove tra l'altro partecipano anche alcuni senatori romani. E uno di questi disse Prendete questo ragazzo, tu Simone lo farai morire, tu Pietro lo resusciterai. Vediamo chi è il più forte. E il ragazzo che faceva la cavia disse Ma una sfida a braccio di ferro no, eh? Così Simone sussurrò Magie demoniache all'orecchio del ragazzo E questo cadde a terra morto. Poi Pietro lo resuscitò. Folla in disibiglio Applausi a scena aperta per l'apostolo del signore. Tanto che si sparse la doce E una donna portò il cadavere di suo figlio lì nella piazza. Solo che questa volta le parti si invertirono E fu Simone a dover resuscitare il morto. Ma questo prima chiese alla folla Se resusciterò questo ragazzo Scaccerete Pietro? E la folla che non era per niente volubile Disse non solo lo cacceremo Ma gli daremo pure fuoco. Simone allora si piegò tre volte sul ragazzo Come nell'episodio biblico di Elia E questo resuscitò. E la folla che certamente era costituita Da un branco di pecoroni ignoranti Ma dalla parola d'onore Subito si mise a cercare della legna da ardere. Solo che la magia di Simone Sembrò rivelarsi un trucco Infatti non appena si allontanò dal giovane Questo ricadde a terra morto. Solo che finché non scoprirono l'inganno Tutti ci avevano creduto che era risorto. Fu di nuovo Pietro a dover rimettere in campo I poteri divini della resurrezione. Il testo prosegue celebrando Pietro E parlando del declino inesorabile di Simone Che nonostante continuava a compiere prodigi incredibili Quali rianimare i morti Far apparire spiriti e guarigioni La folla non faceva altro che deriderlo Così amareggiato ma non sconfitto Tenta all'ultima carta E dichiarando adesso vi dimostrerò Che il dio di Pietro è un falso dio E chi io sia veramente Così dal tetto della casa più alta Tutti lo videro alzarsi in volo Superò la cima di tutte le case Dei monti stava letteralmente volando Simone infatti aveva dichiarato Che avrebbe raggiunto il suo dio E Pietro preoccupato Usò l'aiuto della telefonata a casa Chiese infatti a Gesù di far precipitare Simon Mago E di fargli rompere una gamba E questo immediatamente precipitò al suolo La folla accorse preoccupata E gli tirò in faccia delle pietre e andò via Da quel momento tutti credettero in Dio Questo ovviamente non è da prendere sul serio Nessuno crede a questa roba qui Poi il testo prosegue raccontandoci Del martirio di Pietro E della sua crocifissione a testa in giù Ecco che qui improvvisamente L'attendibilità storica riappare E diventa fonte per la tradizione Che i padri della chiesa hanno portato avanti E che oggi diventa la prova storica Del martirio di Pietro Come di quello degli altri apostoli Cioè questa è la tradizione a cui si rifanno i padri della chiesa Letteralmente i topolino dell'epoca Perché il martirio di Pietro E quello degli altri apostoli È praticamente leggenda Si trova negli apocrifi Nelle ageografie Negli scritti apologetici Non c'è praticamente niente di storico Sono favole di propaganda Perché una cosa che si chiedono spesso e oggi È come è possibile Che gli apostoli si siano farti martirizzare Se Gesù non era veramente risorto Primo è molto semplice La gente si fa ammazzare per qualsiasi stronzata In cui crede ciecamente Indipendentemente se questa è vera Secondo può tranquillamente non essere mai accaduto Alcun martirio di questi dodici apostoli Cioè si sta supponendo che una favola raccontata nei Vangeli è vera Perché riportata da un'altra favola in dei testi Che non sono nemmeno considerati canon Altro testo apocrifo attribuito a Pietro da menzionare È il Vangelo di Pietro Interessante per la particolare narrazione della resurrezione Dove dei tizi scendono dal cielo E davanti ai soldati romani e ad altra gente Portano, trasportano Uno da una parte, uno dall'altra Un Gesù che più che risorto Sembra un moribondo per come lo portavano Si vede che il miracolo della resurrezione Non era ancora completo Ma la cosa più incredibile È che questi due tizi erano alti fino al cielo Il testo dice che la loro testa raggiungeva le nuvole E quella di Gesù andava ben oltre E quindi uscirono dalla tomba Sorreggendo questo Gesù gigante colossale Ma siccome l'odore deve aver pensato No, così è troppo credibile Aggiungiamo che a seguire il trio C'era anche una croce gigante che camminava Alcune copie andate perdute Dicono che la croce cantasse Sasa Gheio, Sasa Gheio Come continuiamo a vedere La dottrina di oggi si fonda Su degli scritti che sono Oggi assolutamente inattendibili Ma prima non era così In passato questi testi venivano presi in considerazione Come molti padri della chiesa Ritengono che alcuni ipocrifi Sono idoni Mentre non ritengono idoni alcuni canonici Anche la storia della formazione del canone del Nuovo Testamento È interessante ma si addice più all'altra rubrica Dell'Impero del Falso Ad esempio la ridicola storia di San Pietro contro Simon Mago Era ben conosciuta all'epoca E troviamo persino un sacco di rappresentazioni artistiche successive A riprova che queste storie erano Il pane della fede di molti Ma basta pensare ai dogmi La cui fondatezza è all'interno di certi apocrifi Come spiegato nel video precedente Al loro interno possiamo trovarci dai nomi dei genitori della Manonna Addirittura canonizzati A persino alcune stazioni della Via Crucis Le trovi in chiesa oggi nei periodi di Quaresima La triplice caduta di Gesù La perdita del Sudario Che darà in epoca successiva adito A tutte quelle storielle di fantasia sulla Sindone Che ricordiamolo è un falso medievale Confermato e riconfermato Con svariate prove, testimonianze Bolle papali al seguito Io non so davvero che altro vi serve Basta con sto finto lenzuolo sparaflesciato Gesù non aveva di certo le caratteristiche fisiognomiche Di un giovanotto greco-romano Gesù era molto più simile al pakistano Che te vende il fumo giù al parchetto Entrambi infatti sono spacciatori di illusioni Per carità, nonostante una porti sofferenza, morte e dolore Con l'altra se ci fai semplicemente le canne Analoga è la questione degli apocrifi dell'Antico Testamento Ma anch'essi utilizzati dalla Chiesa per la propria dottrina Ve la ricordate la preghiera dell'eterno riposo? Quarto libro di Esdra, apocrifo dell'Antico Testamento Parlando degli apocrifi di oggi abbiamo tralasciato però un aspetto importante Che sarà tema di un prossimo video Ovvero di come il cristianesimo abbia fatto diventare mainstream l'antisemitismo Il Vangelo di Pietro ad esempio era uno di questi e serviva allo scopo Togliendo totalmente la colpa ai romani e attribuendola completamente agli ebrei Per la morte e crocifissione di Gesù Nei secoli poi la Chiesa ha sempre fatto dell'antisemitismo il suo fiore all'occhiello Oltre allo sterminio dei pagani ovviamente Ma anche questo sarà tema dei prossimi video Insomma di temi di cui parlare ce ne sono un'infinità Volevo anche iniziare una nuova rubrica sui miracoli ritenuti ufficiali dalla Chiesa Come i miracoli eucaristici Ma a tema miracoli l'ottimo cross ha già fatto un incredibile contenuto sul suo canale Di cui vi lascio il link qua sopra e in descrizione Fatemi sapere qual'argomento vi sta più a cuore con un commento E lo tratteremo domenica prossima Ma soprattutto non dimenticate di mettere like al video e condividere Bisogna fa proselitismo Vi aspetto per un altro meraviglioso viaggio nel fantacristico mondo del fantasticfalso Amen